Consulta illegittime le disposizioni del bilancio, la Corte Costituzionale così ha definito alcune parti. Nell'allegato alla manovra regionale 2015 una bocciatura per frattura, hanno detto dal centro-destra, il governatore minimizza, ma per l'opposizione una sentenza che non ammette repliche. Incidente sulla Trignina, muore un bimbo, tre i feriti, scontro tra una 500L e un fiorino, all'altezza del Bibio di Trivento perde la vita un bambino di quasi 4 anni, ferita la mamma, il fratellino e l'autista del furgone, la donna con i figli stava andando a Isernia dal marito. Sanità a Will, da anno della ripresa al pacco di Natale, frattura annuncia lo sblocco di 45 milioni per coprire il debito, ma le contestazioni al piano non si placano sia dal pubblico sia dal privato, cittadini penalizzati dai tagli e il coro unanime. Scuole sicure, la protesta non si ferma, a Campobasso i genitori della Don Milani esigono risposte subito dal sindaco e dall'amministrazione, diverse le lettere anche a Bregantini per esprimere disagio e contestare l'immobilismo. Telemolise nel cuore, successo per l'evento, la trasmissione di Domenica Sport ha fatto registrare tanti telespettatori che l'hanno seguita da casa, premiati sportivi ed eccellenze della nostra regione. Benvenuti al Tg delle 14, parliamo ancora del gravissimo incidente stradale sulla trignina che ha costato la vita a un bimbo di poco meno di 4 anni, feriti anche la mamma, il fratello e il conducente di un furgoncino coinvolto nello scontro, ma sentiamo le ultime novità nel servizio di Sergio Di Vincenzo. Sono date in miglioramento le condizioni delle persone coinvolte nell'incidente che è costato la vita a Leonardo Petrino, il bimbo che a gennaio avrebbe compiuto 4 anni. La mamma, di 37 anni, originaria di Manfredonia, e l'altro figlio, 8 anni, sono ricoverati al Veneziale di Sernia, ma possono considerarsi fuori pericolo. Ricoverato in condizioni serie al Sampio di Vasto, il 22enne, originario del Venafrano, alla guida del Fiorino che si è scontrato frontalmente con la 500L. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sulle cause dell'incidente che si è verificato sulla trignina, nel tratto fra Trivento e San Giovanni di Pioni, indagano gli agenti della polizia stradale di Agnone, sul posto con tre pattuglie. Stando alle prime verifiche, il Fiorino, che procedeva in direzione Vasto, per cause ancora da chiarire, sarebbe finito sulla corsia opposta di marcia. Proprio in quel momento stava arrivando la 500L, condotta dalla 37enne. L'impatto è stato inevitabile. Il bimbo è apparso subito, in condizioni critiche ai primi soccorritori, due medici che si trovavano di passaggio in quel momento. Un'ambulanza del 118 l'ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Vasto, ma per il piccolo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Leonardo, la mamma e il fratello più grande erano partiti dalla Puglia per riabbracciare il papà Isernia, che a sua volta stava rientrando da Roma per trascorrere il ponte festivo tutti insieme. Invece un destino terribile ha sconvolto le loro vite. Il governatore Frattura ha reso noto che il tavolo tecnico interministeriale ha sbloccato 45 milioni di euro per la copertura del debito della sanità molisana. La valutazione positiva delle coperture avanzate, ha sottolineato, ci permetterà di sottoscrivere con il Ministero dell'Economia entro la prossima settimana il relativo prestito senza incidere sulle tasche dei cittadini, ma ha concluso valorizzando i risparmi derivanti da tagli e gli sprechi e esperperi ereditati. Intanto la polemica sui piani operativi non si placa sia da parte dei comitati in difesa della sanità pubblica sia da parte dei privati e della sanità accreditata. Nelle ultime ore, negli ultimi giorni, le prese di posizione dell'Arcivescovo Bregantini e della Fondazione Giovanni Paolo II, giovedì alle 17.30 nella Sala della Costituzione a Campobasso ci sarà un incontro pubblico per dire stop ai continui Taglia la Cattolica. Intanto il consigliere comunale Tramontano ha chiesto un consiglio monotematico, Palazzo San Giorgio Urgente, a sostegno proprio della Cattolica. E' dura presa di posizione della segretaria regionale della UIL Tecla Boccardo sulla riorganizzazione sanitaria in Molise e critica nei confronti della politica e in particolare del commissario governatore Frattura da anno della ripresa detto al pacco di Natale. Sentiamo. Un giudizio negativo quello della UIL Molise sulla riorganizzazione del sistema sanitario. La segretaria regionale Tecla Boccardo ha una posizione critica nei confronti del governatore commissario ad acta Paolo Frattura. È stato l'anno, ha detto, in cui lui e dei nostri parlamentari sedevano assieme per illustrare tanti buoni propositi, tra cui una saggia, dicevano, integrazione tra Cardarelli e Cattolica. Da anno della ripresa ha sottolineato al pacco di Natale. Dopo mesi di dichiarazioni promesse, smentite precisazioni, ha continuato la linea seguita e sempre quella dei tagli lineari perpetrata attraverso la riduzione dei servizi e delle prestazioni al cittadino. Seguendo questa strada inesorabilmente, le prestazioni della sanità saranno sempre inferiori. La sostenibilità del sistema sanitario, ha aggiunto Boccardo, continua a rappresentare la vera sfida della classe dirigente politica, la più difficile. Siamo consapevoli che sulla situazione molisana gravano altri fattori che l'appesantiscono e la rendono ancora più fragile su tutto il taglio al Fondo Sanitario Nazionale e l'invecchiamento della popolazione residente che è al di sopra della media nazionale. Il problema, secondo la segretaria regionale della UIL, è l'ingovernabilità del sistema. Gli sprechi, gli sperperi, le inappropriatezze, la mancata attuazione di un sistema a rete unico integrato. A riferimento regionale che tenga insieme pubblico e privato accreditato il socio sanitario e la medicina sul territorio attraverso una porta unica di accesso e l'attuazione dei principi di cooperazione, integrazione e condivisione. Bisogna riorganizzare il sistema in base alle esigenze del territorio e il suo appello alla politica. È inaccettabile la chiusura degli ospedali, ha detto ancora tecla Boccardo, senza la reale riconversione e la contemporanea riorganizzazione della rete di assistenza sul territorio. È necessario garantire una sanità più vicina al cittadino che punti all'efficienza e all'efficacia, invece che proseguire con tagli orizzontali che minano la qualità dell'assistenza, compromettono la salute delle persone e mettono in discussione centinaia di posti di lavoro. Ha spiegato, ci aspettiamo, ha concluso la sindacalista, immediate risposte da Frattura e da chi con lui gestisce il sistema sanitario auspicando che tra i tanti numeri già sbandierati venga fuori un progetto che guardi avanti. Di soli calcoli, onestamente, non si sopravvive. L'ennesimo sberleffo per il governatore Frattura e la sua giunta. Così i consiglieri regionali di centrodestra hanno definito la bocciatura da parte della Corte Costituzionale che ha definito illegittime alcune disposizioni contenute nel collegato alla manovra di bilancio 2015. Un giudizio severo hanno dichiarato dall'opposizione che ha dato ragione alle questioni di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con impugnativa del 30 giugno 2015. Ironica la replica di Frattura secondo il quale fa sorridere l'impegno profuso dai consiglieri regionali nell'appuntarsi i meriti che non hanno, ha dichiarato. Presi dalla fretta di sentenziare, non si sono accorti di qualche dettaglio che annulla il loro zelo, ha detto il governatore, ma per i consiglieri di opposizione a Palazzo Moffa la sentenza della Corte Costituzionale non ammette repliche e che, hanno concluso, ha visto la Regione Molise non costituirsi probabilmente nella consapevolezza di non poter avere ragione. Torniamo adesso a parlare di scuole sicure, in particolare degli alunni della Don Milani, perché i genitori tornano a sollecitare l'amministrazione comunale di Campobasso affinché trovi una soluzione. I doppi turni sono diventati ormai insostenibili. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. C'è preoccupazione tra i genitori degli alunni di Via Leopardi, preoccupazione per il silenzio dell'amministrazione comunale di Campobasso, che non ha ancora dato una risposta su come intende affrontare e risolvere la situazione di estremo disagio che interessa i bambini, costrette a doppi turni ormai da troppo tempo. Il 15 gennaio, data entro la quale il Comune dovrebbe comunicare qual è la soluzione individuata, si avvicina inesorabile, ma di soluzione all'orizzonte al momento non se ne intravedono. C'è un notevole immobilismo a livello dell'amministrazione, anche perché le soluzioni per metterle in sicurezza e portarle alle attività diurne sono chiare, bisogna trovare 25 aule. Ora che il sindaco Battista, che è anche presidente della provincia, quindi è supremo responsabile dell'edizia scolastica e quindi controlla i 56 edifici del Comune e della provincia insieme, fa specie che di fronte a una difficoltà del genere non riesca a trovare circa poco più di 20 aule per mettere in sicurezza e far tornare alla normalità ormai 400 bambini. Il disagio oggettivo per i genitori, per i bambini è enorme, quindi altri l'hanno sottolineato più volte e si capisce dal punto di vista concreto. Io vorrei segnalare un aspetto che l'amministrazione sta trascurando. Questa situazione ha già comportato la fuga di molte famiglie e di molti bambini, quindi si sono disgregati i gruppi, le classi, si stanno perdendo le amicizie. Cioè il sindaco deve comprendere che non è solo un disagio materiale, ma è anche un disagio morale che le persone stanno attraversando. Come si fa ad organizzare una giornata lavorativa facendola coincidere anche con le esigenze dei bambini che vanno a scuola il pomeriggio? È tutto molto difficile e molto complicato. Ogni giorno è diverso perché chiaramente abbiamo cercato di continuare le attività extrascolastiche che facevamo con le bambine, con i bambini, per cui devo dire che si arriva a sera molto stanchi. Non solo, ma quando mia figlia torna a casa non ha voglia di parlare, non ha voglia di dire nulla. Allora io mi preoccupo perché penso sarà successo qualcosa e invece la risposta quotidiana è sono stanca. Siamo tutti stanchi. abbiamo bisogno di ritornare alla nostra normalità. Allora io vorrei fare un appello al sindaco. Sindaco ci faccia un bel regalo di Natale. La prego. So che lei è una persona per bene e che sicuramente prenderà le dovute decisioni prima della chiusura della scuola. Noi ne abbiamo bisogno. Grazie. E sempre i genitori degli alunni della scuola Don Milani di Campobasso continuano a far sentire la loro voce anche attraverso delle lettere che ci sono giunte in redazione, come quella di Stefano Brienza, il quale ha evidenziato quelli che a suo dire sono i diritti violati dei bambini a causa dell'indifferenza dell'amministrazione comunale, ponendo diversi interrogativi ai quali chiede di avere risposte. Caro signor sindaco, ha concluso Cidia le risposte che i nostri figli hanno il diritto di avere e lei ha l'obbligo di dare. Le beghe di palazzo e traballanti equilibri politici non ci interessano. E la mamma di due bambini che frequentano, la Don Milani, ha inviato una lettera invece all'arcivescovo Bregantini, sottolineando il disagio per le elezioni pomeridiane, ringraziandolo per le sue parole di incoraggiamento e chiedendogli di condividere una preghiera e un appello ai responsabili delle istituzioni affinché oltre a logiche politiche abbiano a cuore i bambini della comunità e per la loro tutela trovino il coraggio di azioni importanti per risolvere definitivamente il problema della sicurezza scolastica. È stata intitolata da Antonio Francesco Gasbarro la sezione Aido di San Martino in Pensilis. La comunità ha ricordato così le giovane di 16 anni morti in un incidente con lo scooter a inizio settembre. La grande solidarietà dei genitori che hanno deciso di donare i suoi organi un gesto che ha permesso di salvare nove vite in tutta Italia. Sentiamo Fabrizio Occhio Nero. Antonio Francesco Gasbarro voleva fare il medico. Aveva solo 16 anni e tutta una vita davanti. A inizio settembre un tragico incidente con lo scooter nelle campagne di San Martino in Pensilis. Per lui non c'è stato nulla da fare ma i suoi genitori Andrea e Antonella con un grande gesto di amore e solidarietà hanno deciso di donare i suoi organi agli ospedali riuniti di Foggia dove il giovane era stato trasferito. La comunità di San Martino si è ritrovata in chiesa dove persone di ogni età hanno affollato i banchi partecipando all'iniziativa dedicata al ricordo di questo momento. Nel momento della diagnosi di morte cerebrale mi sono trovata a confrontarmi con la famiglia, con i genitori del nostro grande piccolo dottore. Lui da grande voleva diventare il dottore. Beh, in quel momento mi sono visto davanti un dottore bellissimo che curava nove suoi piccoli amici e questo ha aiutato la decisione, ha aiutato la famiglia a decidere che cos'è la donazione, perché bisogna donare. Il dono era già dentro di loro, la voglia di donare, di amare ed è quello che è successo. All'incontro promosso dal parroco Don Nicola Mattia hanno partecipato tra gli altri Giuseppe Maestri, coordinatore della donazione, e Gidiaco Felice per l'ospedale Cardarelli, il presidente provinciale Ario Eugenio Astore, il sindaco Massimo Caravatta e l'assessore regionale Vittorino Facciolla. L'evento è stato animato dal coro San Giuseppe. Ho detto all'inizio del nostro incontro, Antonio è la punta di un iceberg, tante altre volte abbiamo avuto esperienze silenziose di donazione. Adesso era il caso di rendere queste esperienze pubbliche di dare omaggio a queste esperienze e fare in modo che divengano ancora più segni della vita che continua, della vita che viene donata. Sposiamo a pieno gli obiettivi, i principi ispiratori dei padri fondatori, che sono la solidarietà, la cultura, la vita. Ci impegneremo sul territorio per promuovere la cultura della solidarietà, per sensibilizzare alla bellezza e all'utilità della donazione, sia attraverso interventi nelle scuole, in gruppi di cittadini, sensibilizzando le istituzioni. Saremo presenti anche per sensibilizzare naturalmente all'opinione pubblica i problemi etici e deontologici legati alla donazione degli organi, secondo le leggi. I genitori di Antonio Francesco Gasbarro hanno ringraziato tutti per la condivisione di un progetto importante. Il suo papà sarà vicepresidente della sezione Aido. Grazie a tutti e grazie di cuore. Ringraziamo tutti. Grazie. Sono state recapitate le merci raccolte dall'amministrazione comunale di Ripa Limosani dopo il terremoto nel centro Italia, un'iniziativa in favore delle popolazioni colpite dal sisma, che è coinvolto i ripesi e non solo. Cibi a lunga conservazione, abiti, giochi, prodotti per l'igiene e la pulizia sono stati quindi portati a Norcia, direttamente dall'assessore Marco Giampaolo e dal consigliere Michele Moffa. Crollo del prezzo degli immobili in Molise, in particolare a Isernia, il capoluogo Pentro è finito in fondo alla classifica nazionale, un segnale della forte crisi che stiamo vivendo. Sentiamo Enzo Di Gaetano. La profonda crisi economica che colpisce il Molise da anni trova riscontri e conferme anche sul mercato immobiliare. La città di Isernia, che fino al 2010 era una delle più care d'Italia, con i prezzi al metro quadro degli immobili che arrivavano anche a 3.000 euro, oggi è sprofondata in fondo alla classifica nazionale dei costi degli appartamenti. Infatti l'area di Isernia è tra quelle in cui il prezzo della casa al metro quadro è tra i più bassi d'Italia, secondo uno studio condotto da Idealista. Il portale di annunci immobiliari ha analizzato i dati di 387.000 annunci immobiliari pubblicati sul sito nel mese di novembre 2016. Ne è emerso che il territorio Pentro si colloca al penultimo posto, in una scala in cui ai vertici ci sono le realtà in cui le abitazioni hanno prezzi più cari e in coda quelle in cui i costi sono più ridotti. La classifica delle province più care vede in testa Savona, 3.352 euro al metro quadro, poi Bolzano 3.098 euro, Imperia 2.668 euro, mentre nella parte bassa della scala dei valori stazionano Caltanissetta 838 euro al metro, Isernia 836 euro al metro e Biella 689. A livello nazionale, secondo il medesimo studio, a novembre i prezzi delle abitazioni sono calati dello 0,8%, mentre il dato annuale registra una variazione negativa di 4,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, a una media di 1.904 euro al metro quadro nazionale. In abito regionale, infine, il Molise è in coda alla graduatoria. La Liguria resta la regione più cara, con una media di 2.672 euro al metro quadro, seguita dalla Valle d'Aosta, 2.554 euro, che supera il Lazio a 2.549 euro. La regione più economica c'è la Calabria, 940 euro, seguita dal Molise, 1.081 e dalla Sicilia, 1.215. Parliamo ancora della giornata dell'immigrazione molisana nel mondo con due dei protagonisti della manifestazione, l'attore Elio Germano e il conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua e entrambi hanno speso belle parole per la nostra terra. Sentiamo ancora Sergio Di Vincenzo. Una manifestazione interessante sotto ogni punto di vista, quella proposta esernia dalla presidenza del Consiglio regionale per celebrare la giornata dell'emigrazione molisana nel mondo. Ma senza dubbio, uno dei momenti più significativi è stato quello del riconoscimento consegnato all'attore Elio Germano. Nato a Roma, ma originario di Duronia, ha sottolineato con orgoglio le proprie radici, ha ricordato i racconti del nonno ascoltati davanti al camino, ha messo in evidenza quei valori della tradizione contadina che secondo lui oggi possono rappresentare un modello alternativo rispetto a una società troppo individualista e che ne fatti ha fallito. Ma ha anche fatto un appello alle istituzioni affinché proteggano la nostra terra. Si deve essere molto fiscali con chi specula sulla nostra terra, magari scaricando abusivamente nei nostri fiumi, magari gettando diserbanti anche inconsapevolmente per coltivare le nostre terre. E con lì bisogna fare molta attenzione, anche dando fastidio alle grosse ditte, perché insomma la ricchezza del Morisa non sono i soldi che ci portano gli speculatori, ma sono la qualità delle cose che ancora esistono in purezza e è una cosa che non si trova da nessun'altra parte d'Italia, ma forse anche del mondo. E per cui è da questo che bisogna ripartire, a mio avviso. Durante il suo intervento Elio Germano ha anche toccato il tema dell'accoglienza dei migranti. con un aneddoto significativo. A mio nonno l'ha trovato a Roma, la frontiera, nel senso che lui lavorava abusivamente in nero e non aveva il permesso di soggiorno. Per stare a Roma negli anni 50, quindi dopo la guerra, bisognava avere il permesso di soggiorno. Lui era scappato durante la guerra, era riuscito a vivere in clandestinità e a un certo punto l'hanno preso e l'hanno incarcerato. E cosa aveva fatto di male? Era scappato dalla fame, dalla miseria, dalle bombe e cercava di fare quello che sapeva fare, cioè il contadino. Tra gli ospiti più attesi della giornata, anche il conduttore di sereno variabile, Osvaldo Bevilacqua, ha realizzato oltre 70 puntate sulla nostra regione, dedicandole anche un bellissimo capitolo nel suo libro, L'Italia nascosta. Conosce il Molise sin da bambino e in ogni occasione ne parla tutti in termini entusiastici, forse anche meglio degli stessi molisani. È una terra che veramente offre tutto e ti fa anche riflettere, perché quando tu entri in un'atmosfera e sei coccolato dall'entusiasmo della gente, delle popolazioni, dovunque vai, dovunque, non è che dico questo, no, dovunque vai, tu hai sempre qualcuno, qualche angioletto che ti viene con te, ti fa scoprire, si dischiude un paesaggio che tu non ti aspetteresti. Effettivamente è un bagno che tu fai ogni volta che vieni qui di autenticità, di geninuità, che è poi la forza per poter andare avanti, cioè la qualità della vita. È tutto per l'edizione delle 14 del nostro telegiornale, vi lascio adesso in compagnia dei colleghi dello sport per il ricco pomeriggio sportivo a tutto campo. Buon pomeriggio. Grazie.